Vuoi assaggiare? Non lo so se vuoi assaggiare perché me li mangio tutti! No, no, non si mangiano! Vabbè Luca... È buono! No, no, per niente! Family Ciao, sono Ale, vivo gluten free e cucino senza glutine per tutti! Se puoi vedere tutto questo è grazie al buon Luca dietro alla telecamera che oltre a stare dietro alla telecamera Poco più facile! Assaggia! Oggi vedrai dolci merende bomboloni alla crema! Wow! Iniziamo! Intanto ti racconto due cose La dolce merenda di oggi è una delle mie preferite e ho grandi aspettative sul bombolone alla crema se te la propongo oggi è perché è wow! Giusto? Perfetto! Il mix che ho utilizzato per questa ricetta è indicato sempre sul blog se decidi di cambiare marca devi fare attenzione alla consistenza del tuo impasto c'è un momento in cui l'impasto si rapprende e devi fare attenzione a non aggiungerne molto ti faccio vedere bene la consistenza che devono avere i bomboloni Non avere una planetaria non può essere un ostacolo sai che mi piace farti vedere le lavorazioni a mano naturalmente se vuoi quasi dimezzare i tempi puoi usare un gancio a foglia e una planetaria oppure uno sbattitore con le fruste a spirale Attenzione questa fase è un pochino rognosa ti faccio vedere come fare insomma non c'è da impazzire ma solo da avere un po' di pazienza Una volta che il burro è completamente assorbito dovrai fare le pieghe l'impasto è molto appiccicoso questo dipenderà anche dal tipo di mix che utilizzi mi raccomando non ti preoccupare aiutati con l'amido di mais perché utilizzi l'amido di mais invece che la farina di riso scoprilo e dimmi nei commenti come ti trovi prova le mie ricette e poi ne parliamo parliamo di varianti il bombolo alla crema non si tocca dimmi nei commenti se hai bisogno di sostituire o cambiare qualche ingrediente cercherò di aiutarti ti suggerisco se hai voglia improvvisa ma a poco tempo i miei bomboloni istantanei e ugualmente buoni ti lascio il link sotto in descrizione e qui nella scheda fammi sapere quale ti piace di più riprendiamo il nostro impasto dopo la lievitazione non dovrai rilavorarlo ma con un pochino di amido di mais sulla spianatoia stendi una sfoglia di un centimetro e mezzo circa il bombolone perfetto secondo me deve essere di otto centimetri di diametro qui ho 300 coppa pasta neanche uno di otto centimetri niente paura se hai un bicchiere una qualsiasi forma tonda si può fare uguale imburra per bene fai attenzione a fare entrare un pochino di aria quando coppia altrimenti ti si incastra tutto l'impasto anche perché è abbastanza morbido sono le leggi della fisica ti faccio vedere come si fa come tutte le cose il primo è sempre un macello puoi aggiungere un pochino di amido di mais e gli altri andranno meglio trasferisci i bomboloni su una teglia e li copri per bene naturalmente rimpasta i ritagli e forma gli altri bomboloni ecco i nostri bomboloni sono 12 normali uno piccolino li mettiamo a riposare per una quarantina di minuti più un'ora ben coperti al riparo da correnti d'aria e poi friggiamo si frigge già prevedo la domanda addirittura prima di aprire il video si possono fare al forno io lo so che vorresti che io ti rispondessi sì ma il bombolone è fritto soprattutto una ricetta senza glutine se cambi il tipo di cottura cambia completamente la resa ti metto una delle tante brioche che abbiamo già fatto al forno altrettanto godibili iscriviti al canale così non perdi tutte le altre che verranno come li conserviamo come li trattiamo questi bomboloni chiaramente il modo più classico e buono è farcirli al momento di servirli noi per esigenza di ripresa li abbiamo farciti, tenuti in frigo, mangiati il giorno dopo com'erano? come sono esatto sembrano quelli del bar family non so che dirvi di più però quanto mi costa? 12 bomboloni fatti in casa mi sono costati 8,68 euro praticamente 73 centesimi a bombolone negli commenti trovi tutti i dettagli buonissimi se ti va sostienici condividendo il video noi ci vediamo alla prossima ciao belli non riesco a non dire wow mangiamo? sì ciao 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 Grazie.